Il più grande evento di sport da combattimento sta per tornare a Milano. I più grandi campioni di tutto il mondo si affronteranno in sfide epiche. Armin Petrosian sfida il campione del mondo Waco Pro, Sergio Sanchez. Il campione francese è il Mestari contro il campione europeo Ruggero per il titolo del mondo Waco Pro. Il pluricampione mondiale Suza Korn Sor Climmi affronterà l'italiano Claudio Ivaldi. Il campione del mondo Isni Becchiri contro Miali. Il campione del mondo Salmo Petier contro Leozio. Un derby di Milano dove il campione italiano Andrea Festa affronterà Flavio Fumagalli che proverà a strappargli il titolo. Petrosian Mania Gold Edition 25 novembre 2023 Allianz Cloud Milano. Autore dei sottotitoli e dei sottotitoli e delle caratteristiche di Sanchez. Grazie.